Il motto degli Stark è Winter is Coming, ma dovrebbe essere hashtag ma è una gioia. Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary, voi siete su Mary's Reading e oggi parliamo degli Stark. Un bel po' di tempo fa ho girato un video sul trono di spade in cui vi davo una panoramica generale, dura circa 15 minuti, forse qualcosina meno, non ricordo esattamente, che mi è piaciuto molto e avevo promesso di farvi una serie di video dedicate alle varie casate perché, come dico in quel video, il punto forte del trono di spade sono i personaggi. Il trono di spade è un romanzo corale, è una saga in cui si alternano diversi punti di vista di personaggi che appartengono a determinate casate che fanno parte dei Sette Regni, ma non solo. Ho deciso di iniziare con la casata degli Stark perché è la mia preferita insieme a quella dei Martell e dei Targaryen che farò prossimamente, che analizzerò prossimamente, perché non ve lo svelo ancora il perché, ve lo svelo nel corso del video. Per quanto riguarda gli Stark, il loro motto è Winter is Coming, ma come dico nell'introduzione del video dovrebbe essere mai una gioia, anche se nella settima stagione qualche gioia ce l'abbiamo avuta, anzi, ne abbiamo avute parecchie di gioie. Quindi io prevedo il disastro nell'ottava stagione, ma questi sono dettagli. L'inverno sta arrivando che all'inizio non si capisce cosa voglia dire, ma lo capiremo nel corso dei romanzi e nel corso della vicenda, della storia. Winter, quindi inverno, è sinonimo, è l'immagine utilizzata dagli Stark, ma in realtà da tutti, per indicare i tempi rigidi, per indicare i tempi difficili, in cui, per utilizzare ancora la metafora degli Stark, che si rifà questa volta al loro stemma, il branco deve unirsi, deve essere unito per affrontare l'inverno, per affrontare questi tempi difficili, tempi di guerra nel mondo dei Sette Regni. E il tema della solitudine ritornerà spesso negli Stark, perché la loro storia inizia a precipitare proprio quando si dividono. E l'immagine del lupo è azzeccata, in realtà la loro immagine, il loro simbolo è un metalupo grigio in campo bianco, questo, sì, è un metalupo grigio, adesso gli facciamo anche il campo bianco, così facciamo proprio lo stemma degli Stark. Ecco, è caduto, è morto, è vento grigio, decisamente. Il primo del capo di stipite della famiglia, Ned Stark, che tutti, chiunque, io sfido chiunque, a non averlo visto come protagonista assoluto per almeno i primi tre libri. Volume unico, se avete letto, nell'edizione Oscar Mondadori, quella, nell'edizione Mondadori bestseller, mi sembra. E io l'ho letto così, io l'ho letto con quell'edizione, io l'ho letto con quell'edizione, quindi, sì, l'avevo visto come protagonista assoluto. E quando è morto, ho detto, oddio, non si può più vivere senza Ned Stark. Illusa. Cioè, come fa andare avanti la storia senza Ned Stark? Ned Stark è stato il pilastro della prima stagione, che rimane una delle mie preferite, principalmente per lui, perché è un personaggio veramente, cioè, ne ha fatto degli errori, è un personaggio stoico, giusto, integro, ma integro non nel senso di rigido, perché lui è molto passionale con la moglie, ama moltissimo sua moglie, Kathleen, è dolce con le figlie, è buono con i figli, ma è il vero pater familias, praticamente, quel pater familias latino, no? E fa una brutta fine proprio per la sua sincerità, ma la cosa bella di questo personaggio è che viene costantemente ricordato. Quindi, anche se si dice, Ned Stark è uno dei miei personaggi preferiti, anche se si dice, Ned Stark è stato uno stupido, è morto proprio come un pollo, come uno stupido, non come un lupo, in realtà Ned Stark continua a essere ricordato, la sua sincerità continua a essere ricordata, anche in un mondo crudele come quello creato da George Martin, che rispecchia la realtà. Quindi è bello sentire, cioè io associo Ned Stark alla sincerità, all'integrità morale, ed è bello quando nominano Ned Stark ricordarlo in quell'ottica, ricordare che c'è un'integrità morale, forse, forse si riuscirà a costruire. E Jon Snow poi, nel film, il film, cioè la serie tv, rende il personaggio di Jon Snow la fotocopia più giovane del padre Ned. In realtà, cioè del padre, chiamiamolo padre, vabbè, dello zio, dello zio Ned. L'immaggio anche molto irascibile, molto impulsivo, quindi non ha l'integrità ancora morale del padre, dello zio, di Ned, insomma, come lo vogliamo chiamare. Cioè, è stata una figura paterna per lui, in tutti i sensi. Quindi si vede che tenda, tenda, sì, la tenda, fa gli accampamenti, sì, certo, la tenda, va bene. Quindi si vede che tende all'immagine, all'immagine di Ned, ma nel libro, almeno, questo compimento, questa realizzazione, non è ancora avvenuta. E io spero non faccia la fine di Ned Stark, perché... Dai! Però non voglio ancora soffermarmi sulla figura di Jon Snow, perché è un personaggio veramente complesso da analizzare, quindi lo metterò, lo lascerò per ultimo, cercando di farne un riassunto per non far diventare questo video troppo lungo. Io partirei dalle sorelle Stark, Arya e Sansa, e vorrei proprio analizzare questi due personaggi accostandoli, perché sono completamente diversi, sono due, Arya e Sansa, sono due personaggi completamente diversi, ma che alla fine, almeno nella serie tv, riescono a legare. All'inizio praticamente si odiano, si odiano a morte, sono completamente diverse, non solo fisicamente, infatti Arya ricorda molto il padre, Arya non è bella per niente, infatti. E non mi riferisco all'attrice quando dico che Arya è brutta, mi riferisco proprio al personaggio di Arya, perché Maisie Williams è molto più graziosa di Arya. Arya viene descritta con una faccia dura, una faccia a forma di cavallo, quindi Maisie invece ha la faccia tonda, quindi è graziosa. L'ha interpretata benissimo, però insomma Arya è proprio brutta nel libro. Mentre Sansa ha tutta la bellezza dei talli, quindi della madre, e Caitlyn che analizzerò quando analizzerò la casata talli, quindi la lascio lì. Ha tutta la bellezza della madre, la compostezza della madre, la raffinatezza della madre, cosa che Arya non ha, perché scappa dalle lezioni di cucito, scappa dalle lezioni di buona educazione, rifugio da tutti questi insegnamenti per migliorare nell'arte della spada. Arya è un personaggio con il quale mi sono subito identificata, mi piaceva il suo rapporto con Jon, dico mi piaceva perché poi non l'ho più rivista insieme al personaggio di Jon Snow, mi piace, mi sono subito identificata, perché Arya è una guerriera. Arya viene molto paragonata a Lyanna Stark, ed è uno dei motivi per cui adoro il personaggio di Lyanna, che purtroppo non abbiamo modo di vedere perché è morta prima dell'inizio della narrazione, delle croniche del ghiaccio del fuoco. E anche lì Lyanna, accanto allo spirito guerriero, aveva la bellezza, mentre Arya non ha la bellezza per incantare, lei incanta con l'arte della spada, lei è pericolosa, lei è una guerriera e rimane così per tutto il libro. Si subisce qualche modifica, qualche variazione, ma in un certo senso tutte le variazioni, tutti gli ostacoli che incontra sono una conferma a essere ciò che realmente vuole essere. Una guerriera, lei vuole essere un cavaliere, una spadaccina, e lo dice proprio al padre Ned Stark, io non voglio sposare nessun lord, io voglio essere un cavaliere, anche se è una cosa da uomini, ed è un personaggio veramente badass, e migliora sotto questo punto di vista, migliora, diventa sempre più... poi data anche la piccola, la minore età di Arya, è la più piccola dei fratelli Stark, non mi ricordo se è Rikon il più piccolo, vabbè Rikon non lo analizzo perché Rikon è inutile, in un certo senso non ha l'evoluzione di Sansa, Sansa è più grande di Arya, quindi riesce a percepire le sfumature della società in cui vive, Arya non riesce, quindi tutti gli ostacoli che incontra, la portano a essere una guerriera a tutti gli effetti. Mentre il personaggio di Sansa, il personaggio di Sansa è uno di quelli insieme a Jamie Lannister, che analizzerò nella casata Lannister, ovviamente, è uno di quei personaggi che all'inizio odi, ma proprio all'inizio Sansa è una donna raffinata, sta per diventare donna, perché all'inizio del libro e all'inizio della narrazione è molto molto giovane, quindi è una sognatrice. E anche Arya in un certo senso lo è, perché anche il sogno di Arya è quello di diventare un cavaliere, quindi di servire per la giustizia e per la pace, quindi in un certo senso Arya e Sansa sono due sognatrici, ma Sansa è uno di quei personaggi che ha avuto il character development più bello, più accurato, più... sì, più completo, secondo me, uno dei tanti, perché all'inizio del libro non la si sopporta, mentre a poco a poco diventa una donna molto astuta. una donna astuta non solo grazie all'immagine materna, quindi di Catelyn, ma soprattutto, soprattutto, ed è per questo che Sansa, secondo me, sarà un personaggio fondamentale nell'epilogo di tutta la vicenda, soprattutto prende l'influenza di Cersei Lannister, prende la capacità di manipolazione di Cersei Lannister e la utilizza a fin di bene. Lei prende dagli insegnamenti di Cersei e si vede, lei lo esplicita nella settima stagione. Dice che, sì, la figura della madre è stata buona, amorevole, forte, perché Catelyn è un personaggio molto forte e la ringrazia, ma il personaggio, la persona che è più influito nella sua formazione è stata Cersei Lannister ed è interessantissimo, secondo me, il paragone Cersei Lannister-Catelyn Stark. Passiamo poi al personaggio di Bran. Bran è uno di quei personaggi il cui punto di vista mi annoia a morte. va bene che sarà uno dei personaggi più importanti anche questo nell'epilogo, nella parte finale, però veramente i suoi punti di vista mi annoiano terribilmente. mi piaceva all'inizio, provavo compassione per lui, per ciò che gli è successo, per ciò che gli ha fatto Jamie Lannister, quindi non vedo l'ora di un loro incontro. però veramente è un personaggio, secondo me che è proprio lui un personaggio statico, ma proprio la sua condizione è statica. Lui si fa trascinare dagli eventi, cioè o meglio, partecipa agli eventi sempre grazie a qualcun altro. Cioè lui è dinamico nel momento in cui gli altri sono dinamici per lui, nel senso, lui viene trasportato da Odor, viene portato da Osha, da Jogène, dai Reed, e lui è statico e quindi, quindi forse anche per questo mi annoia, però comunque funziona alla narrazione, all'economia generale, però è proprio per questo che la sua storyline è statica, è molto lenta, è molto introspettiva. e Bran è un personaggio che non incontra ostacoli fisici, perché rimane statico, rimane fermo, un po' come il Martell di Dorne, che non inizieremo più avanti, il Doran Martell, il principe Doran, e in questo modo e questa staticità forzata per un bambino della sua età lo porta a una maturazione affrettata e quindi di conseguenza a essere a tutti gli effetti un saggio. Il corvo dai tre occhi, che nessuno ha capito cosa significa, ma ce lo spiegherà, no, vabbè, più o meno si capisce. Di vista di Bran, i capitoli di Bran sono ricchi di immagini, sono ricchi di simboli, sono ricchi di sogni, ma anche di incubi. E in questo sta il dinamismo, in un certo senso, il dinamismo dei sogni, della sua mente, perché lui, invece, è fermo. La sua mente vola e lui è fermo. Rickon, l'altro piccolino Stark, non spendo parole, perché nel libro viene lasciato ai Reed, o comunque viene lasciato alle terre del fiume, e non succede nient'altro, e nella battaglia dei Bastardi, ha una morte veramente infame. Cioè, forse è inutile, porto un personaggio, boh, è inutile, che spero nel libro riacquisti un po' più di importanza. Bran e Rob sono veramente i fratelli. Jon ha legato con quasi tutti i fratelli Stark, tranne con Sansa, ma in particolare, secondo me, con Rob e Arya. Rob è molto diverso da Arya, e John riesce ad unire la parte materna degli Stark, quindi rappresentata da Rob e Sansa, a quella paterna, rappresentata da Arya, Bran, e Rickon, che vabbè, è inutile però, lo associo a Bran. E' il punto di unione, Jon. La particolarità del personaggio di Rob è che non abbiamo mai un suo punto di vista nel corso del romanzo. La prospettiva di Rob è sempre data da un personaggio, da un altro personaggio, da Catelyn, da Sansa, dai fratelli Stark, da Ned, e la sua caratterizzazione è data dalle sue azioni. Mentre con Bran, avevamo una caratterizzazione più approfondita, una psicologia più approfondita, e anche in questo modo forse più noiosa per il lettore, con Rob abbiamo una caratterizzazione dettata dalle azioni, che è un tipo di narrazione che oggettivamente preferisco, che oggettivamente preferisco, che sinceramente preferisco. Ma non è che siamo meno lontani da Rob, cioè la cosa bella di George Martin è che riesce a caratterizzare, a caratterizzare benissimo i personaggi sia in modo diretto che in modo indiretto. E infatti, io penso che la morte di Rob sia la morte più tragica che esista nel mondo letterario, nel mondo letterario contemporaneo, comunque il mondo letterario fantasy, e anche, costituisce anche il più grande spoiler letterario, secondo me, uno dei più grandi. Rob è un personaggio buono, interpretato benissimo da Richard Madden, io me lo immaginavo proprio così, è un personaggio altruista che cerca di eguagliare il padre, ma se il padre, Ned Stark, riesce a scindere amore, quindi per Caitlyn, che comunque ha dovuto sposare perché è dettato dai genitori e poi ha imparato ad amare, comunque se Ned Stark riesce a scindere la passione per la moglie al dovere, Rob, data anche l'età del, infatti viene chiamato giovane lupo, ancora non ci riesce ed è questo che lo fregherà, è questo che non riuscirà a capire malgrado i consigli della madre, malgrado i consigli dei suoi alfieri, di tutti, Rob morirà morirà da eroe in un certo senso perché quelli vigliacchi sono stati i frei comunque, fino a prova contraria, è il cavaliere d'amore secondo me Rob Stark mentre John, John rifiuta l'amore, rifiuta costruire una famiglia e con John ritorna il tema della solitudine, della solitudine come crescita, come mezzo, come strumento che aiuta alla crescita personale perché John è isolato dalla famiglia, proprio letteralmente, non può partecipare ai banchetti, non può assistere alle riunioni, le riunioni degli Stark con altri loro lord che comunque sottostanno alle leggi degli Stark e si isola e sapete quanto, mi è caro, il tema della solitudine, quanto la solitudine può dare. però, come abbiamo detto, il lupo solitario muore, il branco sopravvive e anche John capirà che non può combattere una guerra da solo, che non può, o meglio, gli Stark poi non importa la guerra in realtà, si trovano trascinati dagli eventi, si trovano trascinati dentro dagli eventi, non l'hanno decisa loro in un certo senso. comunque John imparerà, lui è abituato a rimanere da solo, è abituato a non avere il consenso di nessuno e con i guardiani della notte persone simili a lui perché sono la feccia della società, perché sono bastardi o perché sono ladri o hanno commesso altri crimini, con loro riuscirà o perché ha ripidato i genitori insomma, con loro riuscirà a trovare una fratellanza, un legame pare a quello che aveva con Rob e infatti quando scoprirà della morte di Rob lui vorrà abbandonare tutto e saranno proprio i loro fratelli, i fratelli i guardiani della notte a dissuaderlo, a non intervenire. Infatti John Snow non interviene negli eventi dei Sette Regni finché non ha raggiunto la sua piena maturazione più o meno che è ancora in corso ovviamente perché nessun personaggio è completo nessun personaggio come nessuna persona è completa e secondo me fa uno scatto in più rispetto agli Stark e gli Stark si sono buttati negli eventi a parte Ned si sono buttati negli eventi non essendo ancora pronti. John invece ha aspettato è maturato ha scalato la ha scalato la ha ha avuto un consenso per gradi prima ha scalato i gradi con i guardiani della notte e poi è diventato re è andato per gradi ha dato si è dato il tempo di maturare e grazie anche alla solitudine grazie al ritiro ma anche grazie all'unione con altri con altre persone alle alleanze a dire anche sempre la sua opinione quindi è il personaggio che secondo me entra negli eventi già maturo in un certo senso mentre gli altri ad esempio Arya viene trascinata dagli eventi di Westeros e deve ancora deve ancora formarsi i Dem Sans e per questo secondo me periscono poi non si saprà mai non si saprà mai non si sa ancora come andrà a finire però secondo me il personaggio di Jon è il personaggio più difficile da analizzare sto facendo fatica perché è quello più umano è quello più simile è quello è quello che puoi toccare con mano che puoi abbracciare che puoi che puoi incontrare che è il personaggio più umano che esista lì dentro perché ha avuto esperienza di tutto ha avuto esperienza della feccia ha avuto esperienza della nobiltà ha avuto esperienza dell'amore ha avuto esperienza della passione ha avuto esperienza della guerra della pace lo trovo davvero difficile da analizzare e fidatevi che non è solo il puro di cuore che vogliono che vogliono spacciare nella serie tv vorrei davvero rileggere il trono di spade solo dal punto di vista di Jon Snow perché secondo me può essere davvero davvero stimolante e davvero interessante bene io ho finito di cincischiare ditemi voi se amate gli Stark perché amate gli Stark loro vogliono solo la loro famiglia indietro non vogliono il trono di spade però intanto Jonere e King in the North ditemi poi quale altra casate quale altra casate ditemi poi ho intenzione di analizzare la casata di Lannister e la casata dei Daenerys la casata dei Targaryen quindi ditemi voi quale preferite vedere per primo giù nei commenti se questo video vi è piaciuto battete un like vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima va bene noi ci vediamo alla prossima ciao